Oponopono è originario dell'Eauai e si traduce letteralmente in rimettere le cose al proprio posto. È un potente mantra di purificazione e di guarigione che permette di risolvere i conflitti che provocano sofferenza e chiusura. Recitato durante la fase calante della luna, amplifica il suo potere purificante. Ora mettiti in una posizione comoda, chiudi gli occhi e focalizza la memoria del passato, il problema o la situazione conflittuale che vuoi ripulire e curare. Connettiti con l'energia del tuo cuore e recita il mantra ti amo, mi dispiace, perdonami, grazie. Ti amo, mio Sé superiore perché mi permetti di ripulire questa memoria che mi provoca sofferenza. Mi dispiace che le mie memorie del passato abbiano creato la situazione che mi provoca questa emozione. Perdonami se provo questa emozione causata dalla situazione legata alle mie memorie passate e che ora mi turba e mi fa perdere la pace. Grazie, Sé superiore, che mi liberi dalle memorie del passato che mi hanno causato questa situazione. Ti amo, mi dispiace, perdonami, grazie. 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 Ti amo, mi dispiace, ti amo, mi dispiace, perdonami, grazie. 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 Ti amo, mi dispiace, perdonami. Grazie. Ti amo, mi dispiace, perdonami. Grazie.